Sbrocca Junior contro lo Scompadres, seconda giornata per la Lega dei Campioni Amatori 2023, si gioca la Ferrini Cagliari, entrambe vanno a caccia dei primi punti dopo le sconfitte subite nella prima giornata. La formazione di casa comincia bene ma il primo tentativo a passare sono gli ospiti, è il ventesimo quando Argiolas concretizza al meglio l'assist di Rodríguez Ciasse. Nel finale di primo tempo, prima pericolosissimi Rosa con Fabio Serra, poi autori del gol dell'1-1 con una perla bellissima direttamente sul calcio piazzato da parte di Raffaele Cozza. Si va così a riposo sul seguente parziale, Sbrocca Junior 1, Lo Scompadres 1. In avvio di ripresa Fabrizio Argiolas, dimenticato dalla difesa della squadra di casa, realizza la doppietta personale e al 41esimo la squadra giallo-blu chiude i giochi. Grazie ad Alessio Farci che va a insaccare dopo una corta respinta di Serra su conclusione da fuori da parte di Fabrizio Argiolas. La formazione ospite gioco ormai sul velluto Argiolas vicinissimo alla tripletta personale, bravo nella circostanza all'estremo difensore avversario Serra. La formazione dello Scompadres è l'unico ormai in campo, anche con un po' di fortuna Vincenzo Segni al quarta settesimo fa 4 a 1. Al cinquantesimo doppiata personale anche per Alessio Farci che termina un'azione corale splendida della formazione ospite. Finale dal campo Ferrini, Sbrocca Junior 1, Lo Scompadres 5. Allo Sbrocca ancora non bastano i progressi mostrati dopo la prima giornata. Allo Sbrocca